Buongiorno a tutti, io sono Luca Bertazzoni dell'azienda del quadrifoglio impianti e come azienda ci occupiamo di impianti elettrici e domotica. La domotica è la scienza che si occupa di fare dialogare tra di loro i dispositivi all'interno della nostra abitazione. Nel caso della disabilità viene in aiuto perché ci rende autonomi all'interno della casa. I dispositivi che possiamo controllare sono le luci, le automazioni, il controllo della temperatura, i sistemi audio-video e la sicurezza. Grazie a tutti!